Ciao a tutti, siamo di nuovo qua insieme a Gnugno e questa volta siamo nella stessa categoria del video precedente, però con la versione italiana della cosa, visto che ormai tutti l'hanno fatto questo video, lo facciamo anche noi, perché almeno ci abbiamo stile anche noi. Vabbè, comunque l'unica cosa che ho visto di diversa dai video che ho visto di altre persone è che le ruote che sono uscite a me, io ho preso entrambi i sacchetti, vabbè uno è stato utilizzato nel video precedente per sputarci le caramele dentro, quindi adesso non c'è più, però ho preso sia quello giallo che quello fucsia, in modo che ci siano tutti e sei i gusti, perché per ogni busta escono tre gusti, e quindi qua ce li abbiamo tutti e sei. E niente, le ruote praticamente sono diverse, perché nei video che ho visto c'era quella ruota con la freccia da girare, invece qua è proprio da grattare in base a quello che esce, è il gusto da fare, però ci sono due ruote diverse, uno con la gratti esce il gusto e niente, e ti devi mangiare quel gusto lì, l'altro invece, gratti esce il gusto e poi in base al gusto che esce c'è un punteggio, se ovviamente il gusto è quello brutto c'è un punteggio più alto, perché perde chi raggiunge prima i 20 punti, quindi ovviamente perde chi prende più gramelle, schifo, serve una monettina, o grattiamo con le unghie? Con le unghie, no? Con le unghie, allora, le bustine sono queste qua, adesso mi sono resa conto che qua ce n'è solamente una gialla, quindi adesso vedremo che cosa fare, comunque, versiamo tutto dentro, insieme, ti capisco gli incolori, no? La consuma spettivamente entro il 2019, beh almeno non sono scaduta, almeno questa cosa sa di rosmarino, cosa sa di rosmarino? Non mi dava di prosciuttino ma fulgine è attento ah Vado, guarda caso Ok, quindi quella è uscita quella rossa che può essere o a ciesa la puzzolente o fragola quindi questa qua sì sì oppure io la rossa? Eh sì, devi prenderla pure tu Ok Aspetta, non riesco a prenderla, ma dov'è? Qua dentro è l'acqua? Buongiorno, madame. Ragola. Ma ce l'ho più solo dentro. Si, cosa sa? Buongiorno. Si? Si. Buongiorno. Bene anche questa fragola sia il massimo. Ma no quanto fa schifo, signora. Si? Quella rosa. Erba marcia o frutti di bosco? Dai. Molto buono. Questi frutti sono paradisiaci. No? No. Lo vuoi spetare? No. L'erba a marcia c'è buona. L'erba a marcia c'è buona. Ha un gusto di... Di menta. Di... Vabbè di erba menta. Rosmarino. Eh. Tipo qualche... Rosmarino tipo. Vabbè, uno pari. Cibo per cane o arancia? Quella aranciona. Eh, il cibo per cane... E' una massa di... Di menta. Buona. Guarda. Vai. Arancia. Arancia. Molto buona. Ahahah. Beh, queste... Queste dovevamo prendere. Non quelle delle altre volte. Sono tutte brutte, porca miseria. Beh, questa è tranquilla. Celeste. Calzini sporchi o... Mora. Mmm. Calzini sporchi però non è te schifo. Mmm. Mmm. Pronto? Vai. Mmm. Buona. Molto buona. E a te? Non lo so. Come non lo sai? Mmm. A me è buona. Tu non lo sai? A me non fa schifo ma non sa di mora. E' la diuda di calze. Calze pulite. Ma non sa di... Calze pulite, capisci? Sarà una scuola di lavarla. Quindi... Sa di menta pure questa. Quindi lo metto io? Mmm. No, devi metterla a me, appunto. No, ok. Allora, un altro punto devo metterla perché tu hai preso pure l'erbaccia. Eh, l'erbaccia mi hai messa lì. E poi ho preso l'erba e i calzini. Mmm. Va bene. Tocca a me? Mmm. Si. Mmm. Caramella gialla. Alito, fetico... O limone. Eh, questa qua è quella gialla che non c'è. Ce n'è solo una. Dai, prima le donne. Tu pare. Ti li dividi a metà? Eh no, sei brutta che me la dividi a fare metà. Eh, o vinciamo o perdiamo entrambi. Alito, fetico o limone. Limone. Si. Si. Io ho un mix di gusti in bocca. Mmm, limone, molto buono. Vabbè, niente, questa era un jolly. Vado. Mmmh. Certo che tutta diversa stiamo prendendo. Eh, ma secondo me sono tutta diversa. Non lo so. Calcola viscida o mela. Calcola verde. Ok. Quindi, questa cos'è? Calcola viscida o mela. Mmmh, a mela. Ma stanno tutte di menta. Cosa mi dai di mela a me? A me stanno di menta. L'erbaccio ha fatto i suoi effetti. Scusami. Se non ti fa schifo. No. È la caramella o la menta. Da di rix. Che di calcola è? No. Questi non è che li fanno tanto bene i gusti, eh. Sanno di menta. Poi si dovrà essere la calcola. Eh. Quindi è perso in realtà? In teoria si, però... Qual è l'importante? Sì. Ah, di nuovo. O cibo per cani o arancia. E non ce n'è più. Ce ne sa. Ma prima l'ho assaggiata io. Cioè, prima l'ho assaggiata tu, allora l'assaggio io. Mmmh. Quindi con questa non so cosa riusciremo a fare. Mmmh. Sì? Mmmh. E di cosa sa? Ma, ma, cioè, sa di meglio. No, da di cibo per cani prove. Sì? Un po' quello che ho preso io non sapevano di marcia. No. Sfortunato. Calzini sporchi o mora? E di nuovo quel gusto lì? Che non è mora. A me è da di mora. Eh, mi sa che metteremo un'altra stanghetta qua. Non è che fa schifo come le altre. Ma non è che fa schifo come le altre. Ma non è che fa schifo come le altre. Come quelle le altre. Cioè, questo è quel gusto schifoso non fa schifo. Meglio. Così non voluta. La facciamo un'altra ruota. Eh beh, finiamo. E ormai non è che ci siamo tanti per me. Oh, faccio io, faccio io questa. Quella rossa. La scela è tutta la tua fragola. Sette e due. Che significa? Che se chi prende la scela prende sette punti, chi prende la fragola prende due. Sette e due. Sette. 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 Che stai facendo? Quattro. E sette. Ah, sono noti i punti di prima. Sì. Beh. Giustamente erano tutte buone. Più un po' io arrivo proprio. Gratta ancora e raddoppi i punti. Mamma mia. Sì, signor. Eh, non c'è quella gialla. Quella gialla non c'è. Non c'è. Quella arancione neanche. Eh, sfiga. Quella gialla neanche. Quella celeste. Ce n'è solo una. Una. Vabbè, facciamo un'altra. Quella arancione di nuovo non c'è. Verde. Verde? Sì. Allora, calcolo la dici da sette mila due. Però bisognerà doppieri i punti. Sì. Ok. Quindi quattordici e quattro. Mmm. Quella che salimenta. Da divizio. Quindi non è mela questa. No, dai. E' buona, dai. Non mettiamo i punti. Quattro e quattro. Sì, ma in realtà è quella marcia. Questa qua. Non vuoi mettere quella marcia? Eh, per forza. Eh, mi sa che hai perso allora. Eh, sì. Pure tu. No. Io non ho perso. Allora, visto che Erika sta a 25. Io sono a 22. Sì, ma siamo arrivati a 20. Io ho arrivati a 30. Vabbè, vediamo. Va. Vediamo quando finiamo appunto. Siamo. Ok. qui. Ce n'è un sacco. Allora. Erba marcia 3. E frutti in bosco zero. No, no. Rossa è. Quella rosa, non quella rossa. Rossa, no. È rosa. Questa qua è quella rossa. E questa? Eh. Ma è quella rosa, non quella rossa. Questa. Ah, ok. Questa? Mh. Cos'è? Questa è l'erba marcia. Ma mi ha dato più di bosco. Quindi, tre. Però, hanno tutto lo stesso gusto con le marce. È vero? No, buce io. Ma se è una rossa di Vicks. Cibo per cani, no. Era cibo per cani. Sono marce. Ma le altre sono di... Quindi io, quanti punti? Tre? Sì, tre in più. Sempre zero. Sempre la stessa. Via. Uh. Sempre quella. Ok. Pure io. Quindi altri... Tre. No. Due e uno. Mh. Vabbè. Certo. 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 Questa verde. La verde non ce ne sono. Ah, non ce ne sono. Certo. Visto e giusto. Tre. Calculo la piscina. Unomila. Speriamo. Cosa di Vicks? Com'è. Ma è buono. Ma appunto, è buono. Ogni tre punti è questa. Sì. non evitare di avere mal di pancia domani ahahah buono ma l'ultima quella rossa hai scelto il punzonante 5 trago la 2 che schifo c'è qui così vabbè vai che schifo è buona mmm è schifo si ma è bello come l'ho mangiata tutta prima se il moccolo rosa un altro rosa e basta dai facciamo che questa dice tutto va bene vix si ma io quella frutti di bosco non l'ho ancora assaggiata proviamo vediamo se si è fortunata neanche la mora questa è mia eheheheh buona ma sono tutte così hanno tutto lo stesso gusto si perché sono italiani buone sono rimaste tre una rossa una azzurra e una rosa dai io sono fiduciosa questa è marcia non da di niente questa è proprio marcia va bene facciamo questa è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo è l'ultimo è considerazione finale di tutto che i gusti non erano quelli originali rispetto a quelli americani che come presi una mi senti male anzi e niente è andata abbastanza bene e ho vincito pure nel senso che comunque i gusti marci non è che erano anche mangiabili a parte il cibo per cani e la lascella però erano abbastanza mangiabili era meglio che ci mettevano i dentifrici però va bene molto buona molto buona vabbè da rischi al gusto e Erika e Emanuele è tutto a voi la regia no niente vi mando un grosso bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video ciao anzi vi dico che io speriamo di avervi tenuto compagnia perché comunque questi video qua sono molto easy cioè niente di troppo elaborato esatto esatto qua c'è Rita da Cimmi per far un ciao ciao ecco ciao ciao altro preferito è questo ombrettino in crema di Waicon questo qua l'avete visto nei miei regali del compleanno e anche nel mio video nel mio ultimo make up tutorial appunto ecco